Hi guys, how are you? Io mi chiamo Camilla e mi sono laureata solo pochi mesi fa nel corso GEM a indirizzo International Business. Se potessi tornare indietro, a due anni fa riprenderei assolutamente la stessa decisione. Il motivo è molto semplice, questa specialistica offre un'ampia gamma di corsi interamente in inglese, che non solo permettono di migliorare il livello linguistico, ma aiutano ovviamente a essere più smart e più confident in una lingua che ormai si sa è diventata fondamentale al giorno d'oggi. Inoltre, l'offerta formativa prevede tante opportunità, quali Double Degree, Erasmus, Lab e corsi facoltativi, che permettono di conoscere persone provenienti da tutto il mondo anche senza viaggiare e di mettersi così in gioco sia in aula che non. La maggior parte degli esami prevede inoltre anche la preparazione di una serie di presentazioni di gruppo, che aiutano sicuramente a migliorare il teamwork che è fondamentale nel mondo lavorativo, ma permettono anche di superare lo scoglio del public speaking che prima o poi tocca a tutti. Io inoltre, grazie al GEM, ho trovato lavoro ancora prima di laurearmi come junior business analyst presto una società di consulenza di Milano e sicuramente ha influenzato la preparazione interamente in inglese in questa magistrale, ma anche tutto quello che sono state le attività che hanno aiutato a indirizzarmi verso il mondo lavorativo. E questo ha sicuramente fatto la differenza. Quindi mando a tutti un grande in bocca al lupo!